buongiorno siamo a cavanella po davanti al ponte chiuso sulla statale provinciale 41 davanti all'idrovora che è stato chiuso appunto per cedimenti della struttura che potrebbero portare al crollo in seconda alcune ipotesi i danni sarebbero stati causati molto probabilmente da un natante in manovra naturalmente grande la preoccupazione dei cittadini e ristoratori di cavanella po per l'interruzione della strada che impedisce agli ospiti dell'autrodomo di poter usufruire dei servizi delle attività di cavanella oltre alle evidenti difficoltà del transito dei mezzi pubblici e delle macchine nell'incontro tra il sindaco omer barbierato il presidente della provincia dall'ara e il presidente del parco casparini è emerso che nel giro di pochi giorni il ponte verrà aperto solo al transito ciclopedonale e nel contempo sarà eseguita una nuova perizia dei tecnici